Stiamo vedendo quali riservisti chiamare perché servono tantissimi riservisti, non bastano solo i militari che abbiamo, perciò stiamo mandando tantissime lettere a 15.000 italiani che si devono presentare per andare alle armi. Certamente vedremo di fare due piccioni con una fava perché come sapete l'Inps sta fallendo e dobbiamo provvedere a coprire il buco dell'Inps prima che fallisca, perciò manderemo in guerra prima gli anziani, gli over 65, gli over 70 in modo che veramente possono intanto risanare le casse dello Stato, andando in guerra e pensionati daranno una mano di logistica e di istruzione a tutti i militari che ci sono perché come sapete sono più esperti, hanno fatto il militare, sanno sparare col Garant, col Falang, tutti questi fucili si sparavano a volta, perciò andando i pensionati andranno a sistemare tutte le situazioni di guerra e magari anche di logistica e poi anche le donne pensionate possono partire per andare al fronte perché come sapete stirano per il soldato, cucinano, anche il soldato sapete quando si presenta al nemico va con la giacca stirata, con la pancia bella piena, col viso bello riposato che ha mangiato diciamo e già il nemico lo vede già in un altro modo perciò prima i pensionati e le pensionate in modo che facciamo due piccioni con la fama risaniamo le casse dello Stato del buco dell'Inps e andranno a istruire questi qua i giovani che vanno al militare.